A Roseto, sempre più attuale, la situazione è relativa agli impianti semaforici guasti sul territorio comunale. Dopo le polemiche lanciate dall'opposizione, arriva la risposta del vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Angelo Marcone. Per quest'ultimo sostituzione che andava fatta tempo fa, a breve partirà il ripristino dei vari semafori, grazie ad una variazione di bilancio di 48 mila euro. L'intenzione dell'amministrazione è sicuramente ridare e restituire sicurezza agli impianti semaforici del territorio che abbiamo ereditato in uno stato di abbandono totale e che ovviamente si sono ancora più deteriorati con il passare del tempo perché siamo metamandato. Ovvio che è un intervento che andava fatto probabilmente prima, trovando delle risorse sulle manutenzioni che non possiamo in futuro mettere in secondo piano, ma anzi dare l'assoluta priorità per dare ovviamente le risposte al territorio e una variazione di bilancio che finalmente permette di oggi acquisire i preventivi necessari e stabilire una sostituzione di quelle lanterne che ormai sono deteriorate. Entro le prossime settimane si avvierà la procedura per poter avviare la sostituzione sul territorio, verranno ovviamente attenzionati i semafori maggiormente più critici e quindi partiremo sicuramente a Via Taulero, Via Latini che è l'incrocio principale della città di Roseto e ovviamente andremo anche nelle frazioni del territorio cercando di sistemare un po' tutti gli impianti semaforici. Grazie. Grazie.